Salve, tifosi rossoneri! Benvenuti ad un altro aggiornamento sul nostro amato club. Prima di tuffarci nelle notizie che tutti commentano, vi invitiamo a lasciare un like, a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Veniamo al dunque, le ultime notizie dal mercato dei trasferimenti. Samuel Ciucuezze, arrivato al Milan la scorsa stagione dal Viglia Real per circa 20 milioni di euro, potrebbe essere in uscita nella finestra di gennaio. Nonostante abbia impressionato durante il precampionato sotto la guida del nuovo allenatore Paolo Fonseca, Ciucuezze sta trovando difficoltà ad assicurarsi un posto fisso in prima squadra, soprattutto a causa dell'eccellente forma di Christian Pulisic. Secondo Sochernet.ng, l'Atletico de Madrid ha mostrato interesse a riportare Ciucuezze in La Liga e anche club della Premier League come West, e in United e Aston Villa stanno tenendo d'occhio il 25enne. Questi club sono consapevoli del fatto che Ciucuezze vuole giocare di più, cosa che non è riuscito a ottenere al Milan in questa stagione, avendo giocato solo 148 minuti finora. Durante la conferenza stampa in vista della partita contro il Lecce, Fonseca ha condiviso le sue osservazioni sulla situazione di Ciucuezze, sottolineando che nonostante un precampionato promettente, il giocatore non è stato in grado di mantenere lo stesso livello nelle partite di Serie A contro squadre come Torino e Lazio. Fonseca ha sottolineato che non è una questione di qualità, ma di fiducia. Deve acquisire fiducia e giocare in questo contesto, in Serie A non ha spazio, deve muoversi al momento giusto, ha spiegato Fonseca. Il valore di mercato di Ciucuezze è attualmente stimato in 20 milioni di euro, più o meno quanto il Milan ha pagato per lui. Questa finestra di trasferimento di gennaio potrebbe essere l'occasione per Ciucuezze di cercare un nuovo inizio e, più tempo per giocare in un altro club. Allora, tifosi del Milan, pensate che dovremmo dare a Ciucuezze una chance in più o permettergli di trovare opportunità altrove? Commentate qui sotto con le vostre opinioni e non dimenticate di attivare le notifiche per non perdere nessun aggiornamento.